Ciao a tutti, spero siate in forma. Oggi parliamo di scrivanie da lavoro. Quale scegliere? Qual è il miglior rapporto qualità-prezzo? Prima di scoprire i 7 prodotti che ho scelto per te, iscriviti al canale e premi sulla campana per attivare le notifiche. Sarai sicuro di non perdere nessuna delle prossime scoperte come questa. Andiamo! Questa piccola scrivania è adatta a tutti i membri della famiglia, sia i bambini che gli adulti si sentiranno a proprio agio nel mettersi al lavoro con entusiasmo. Perfettamente adatto a piccoli spazi o camerette dei bambini, occupa pochissimo spazio ed è facile da organizzare. Adatto a tutti gli usi, dal gioco al lavoro studentesco all'attività professionale, ti darà piena soddisfazione con i suoi due ripiani portaoggetti. Realizzato con truciolato di alta qualità ricoperto da un rivestimento superficiale resistente, è davvero facile da pulire. Venduto in 7 diversi colori, misura 60x82x76 cm e si adatta a molteplici usi. Questo mobile per ufficio dal design molto elegante è realizzato con una struttura in acciaio e pannelli in truciolare. Il suo mix di materiali gli conferisce uno stile industriale deciso e sarà il tocco trendy dei suoi interni. Al di là della sua estetica, è molto pratico perché tutto è a portata di mano con la sua ampia superficie a due ripiani. Molto solido, il telaio in metallo ti garantisce una stabilità solida come una roccia. Niente più agitazione in ufficio. Infine, le sue grandi dimensioni 120x60x75 ti daranno piena soddisfazione in tutte le tue attività quotidiane. Questa scrivania è lo stile più semplice di mobili per ufficio che puoi trovare. È anche uno dei più economici. Nonostante il suo prezzo contenuto, offre buone dimensioni in quanto misura 110x60x75. Il suo pannello in legno laminato con finitura lucida è resistente e facile da pulire. Per una maggiore durata viene trattata anche con un prodotto antigraffio. La struttura della scrivania è in metallo laccato molto robusta garantita dal marchio. La struttura a forma di X del telaio in metallo garantisce una lunga durata in ufficio e una buona stabilità. Questa stabilità è completata dai quattro piedini regolabili in altezza che consentono di adattare la scrivania al pavimento della stanza in cui la si installa. Inoltre, questi piedini regolabili proteggono i pavimenti fragili come il parquet. Questa scrivania dal marchio HLC è una scrivania per computer ad angolo molto pratica con ripiano istraibile per tastiera del computer. La sua struttura è in tubi di acciaio e il suo piano di spessore 15 mm è intruciolare. Questo rende questa scrivania un completamento d'arredo sia di design sia solido. La sua forma L si adatta perfettamente a qualsiasi stanza della casa e allo stesso tempo ti offre un ampio spazio di lavoro con molte dimensioni generose, di 161 x 120 x 73 cm. Molto trendy e di colore naturale si abbina a qualsiasi arredamento. Punto bonus! Oltre alla scrivania viene fornito un supporto per le ruote e per la CPU del tuo computer per l'acquisto. Questa scrivania è un tavolo da disegno con la particolarità di essere inclinabile. Addio dolori alla schiena e al collo, puoi regolare l'altezza e l'inclinazione del tuo documento quando devi leggere o scrivere. Progettato per il massimo comfort di utilizzo, l'angolo di regolazione è molto importante. Quando si tratta di materiale è una scrivania robusta. La sua struttura in metallo e la sua struttura a forma di X sono le garanzie della sua solidità. Il tavolo è realizzato in fibra di legno e in media densità. Le sue dimensioni di 130 x 60 x 75 cm la rendono una scrivania molto pratica. Per una comodità ancora maggiore, una libreria laterale a due piani ti consente di riporre i libri e i documenti e di avere tutto a portata di mano quando lo desideri. Questa scrivania del marchio Song Mix è un tavolo da gioco per tutti gli appassionati di giochi. Con i suoi colori super trendy nero e rosso piacerà a tutti. La sua struttura in metallo ha una struttura a forma di Z per una maggiore resistenza e stabilità. Ciò consente a quest'ufficio di supportare fino a 50 kg di apparecchiature informatiche. In termini di comfort, un tablet alza lo schermo all'altezza degli occhi e limita così il dolore associato a una cattiva postura. Il bordo è angolato per rilassare le maniglie e gli avambraggi. Gadget super cool, c'è un portabicchieri sul lato, un gancio per appendere cuffie e uno slot negli angoli della scrivania sul muro per far passare i fili dei tuoi vari strumenti informatici. In breve, questa è un'ottima scrivania, consigliata a chiunque abbia bisogno di stare seduto per lunghe ore, giocando o lavorando. Questa piccola scoperta del marchio FlexiSpot è una scrivania per computer regolabile in altezza. Una volta posizionato su un tavolo, puoi regolarlo per usarlo in piedi o seduto. In questo modo, il tuo schermo sarà perfettamente allineato con i tuoi occhi, qualunque sia la tua taglia o che tu sia in piedi o comodamente installato su una sedia. Il suo sistema di levitazione con molla a gas ti consente anche di passare da seduto a in piedi in un attimo in un semplice tocco delle maniglie. Con le sue dimensioni di 81,2 x 51 x 18 cm si adatta a tutti. Un vassoio per tastiera può essere staccato dal vassoio principale per essere posizionato al di sotto di esso. Se non ne hai bisogno, puoi unire le due schede per creare un unico spazio di lavoro. Progettato solo in metallo, è molto resistente. Particolarmente indicato per un utilizzo professionale, è un pratico e robusto scrittoio SitStand. E il gioco è fatto! Hai tutte le informazioni per scegliere l'ufficio migliore. Se ti è piaciuto questo video, non esitare a mettere mi piace. Verifica anche di essere iscritto al canale e che le notifiche siano state attivate dalla campanella. A presto per nuove scoperte di Hitec. Ciao ciao!